Ciao a tutti e benvenuti sul canale Serie TV Spoiler. Preparatevi perché oggi vedremo le anticipazioni di Terra Amara che vanno dal 26 al 30 giugno. Ci avviciniamo così al finale della seconda stagione di Terra Amara. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace al video. Dopo giorni di tensione e grazie all'insistenza di Uncare e ai commenti dei vicini, sembra che Demir abbia finalmente iniziato a riconsiderare la sua posizione. Nel silenzio solenne dell'ufficio del procuratore, il signor Yaman annuncia una svolta sorprendente, ritira tutte le accuse contro Zuleya. La sua voce risuona nella stanza, mentre lui stesso desidera con ardore che la gente cessi di considerarlo un tiranno, dedicandosi a ricostruire la sua macchiata reputazione. Rivolgendosi al pubblico ministero con occhi determinati, si presenta come l'uomo che ha spinto Zuleya a premere il grilletto. Finalmente, Zuleya può abbandonare le fredde mura del carcere. Il suo avvocato si reca a casa di Fecheli, un'aura di speranza leggia nell'aria. Con voce solenne, informa la famiglia che Demir ha ritirato tutte le accuse contro Zuleya. In attesa del processo, sarà finalmente libera. Yilmaz e Fecheli mostrano una gioia visibile, i loro sorrisi non possono essere nascosti. Tuttavia, Mujgan e Beice sembrano travolte da un'emozione sconosciuta, il timore danza nei loro occhi. Poco dopo, un car si avvicina a Zuleya con un abbraccio caloroso, i suoi occhi riflettono una comprensione profonda per tutto ciò che la ragazza ha attraversato. Nel frattempo, Yilmaz osserva in silenzio la scena da lontano, il suo volto racconta una storia di tormento e speranza. Durante il tragitto in macchina, Zuleya non riesce a tacere. Le sue parole fluiscono come un fiume in piena, parla dei suoi figli e del bruciante desiderio di riabbracciarli. Tuttavia, la verità si insinua come un pungolo di dolore nel cuore di Zuleya. La signora non trova il coraggio di confessare che né lei né i bambini si trovano più nella villa che una volta chiamavano casa. Un car, mostrando una sensibilità straordinaria, incoraggia Zuleya a confidarsi, a svelare le profonde ferite che si celano dentro di lei. E in quel momento, la verità viene svelata, l'attentato di Beice, un piano orchestrato nell'ombra che ha gettato Zuleya in un inferno senza fine. Quando finalmente Zuleya varca nuovamente la soglia della sua villa, un senso di attesa e speranza la pervade. Ma la gioia del ritorno viene subito offuscata da una realtà spietata. Le viene negato il diritto di abbracciare i suoi figli, poiché essi sono stati affidati a una misteriosa donna, una presenza enigmatica che scopriremo ben presto. La villa, che un tempo era il simbolo del suo potere e della sua autorità, ora si trasforma in una prigione dorata, in cui Zuleya è ridotta al ruolo di una semplice lavoratrice domestica. Le sue giornate sono consumate da fatiche senza fine, mentre il peso dell'ingiustizia le schiaccia l'anima. La sua identità viene strappata via, mentre lontano dai suoi occhi i suoi amati figli vivono un'esistenza separata da quella della loro madre. Unkar si trova nel cuore della villa Yaman, accanto a Uzum, intenta ad aiutarla con i suoi compiti. Ma l'atmosfera è carica di segreti, e la piccola non può più trattenere ciò che brucia nel suo cuore. In un momento di confidenza, Uzum si rivolge ad Unkar, svelando che una donna misteriosa si prende cura dei suoi adorati nipotini e sembra essere intimamente familiare con ogni angolo di quella dimora. Mujgan, nel frattempo, si rivolge alla zia, il suo tono è carico di rancore e accusa. Le chiede di smettere di interferire nella sua vita, sostenendo che la sua costante intromissione e il suo manipolare le storie e le opinioni altrui abbiano portato a quella situazione attuale. Beice, senza mostrare rimorsi, decide di agire e porre un punto finale alla reputazione di Zuley a una volta per tutte. Con astuzia diabolica, Beice scrive una lettera falsa, indirizzata a Yilmaz, e la fa recapitare a Mujgan, senza sollevare alcun sospetto. Successivamente, spinge la nipote ad aprirla per svelarne il contenuto, e al suo interno vi è una presunta lettera scritta dalla stessa Zuley. In queste parole manipolate, Zuley ammette che Adnan è figlio di Yilmaz e che il loro amore non si è mai spento. Il gioco di inganni e manipolazioni di Beice si avvolge intorno ai personaggi, mentre le conseguenze di questa rivelazione potrebbero cambiare per sempre il corso delle loro vite. L'incertezza si fa sempre più opprimente, mentre Zuley è costretta ad affrontare una nuova minaccia che mette a rischio tutto ciò per cui ha lottato. Il suo spirito indomabile, però, brucia più forte ma il destino riserva ancora sorprese. Dopo aver letto la lettera inviata dalla zia e aver ascoltato le sue parole, la dottoressa si sente sopraffatta dalle emozioni quando Beice pronuncia affermazioni sconcertanti «È urgente che Zuley muoia, così potrai finalmente trovare un po' di pace e riconquistare Yilmaz». Queste parole scatenano una reazione del tutto inaspettata in Mujgan. La dottoressa Mujgan, dopo il matrimonio con Yilmaz, comincia a percepire i forti legami che uniscono suo marito a Zuley. La gelosia comincia a serpeggiare dentro di lei, avvolgendola come un vortice incontrollabile. Ma l'arrivo della zia Beice scatena in Mujgan una gelosia ancora più intensa, trasformandola in una rivale determinata a eliminare Zuleyha per salvare il suo matrimonio e conquistare l'amore di Yilmaz. La gelosia di Mujgan diventa sempre più ossessionante, spingendola a considerare l'idea di eliminare Zuleyha per avere Yilmaz completamente per sé. La sua mente inizia a tessere un piano folle. Mujgan, fingendo di essere Yilmaz, attira Zuleyha in una trappola. Le dà un appuntamento segreto in un bosco remoto. Quando Zuleyha arriva sul luogo concordato, invece di trovare Yilmaz, si ritrova di fronte a Mujgan puntarle una pistola. Zuleyha, colta di sorpresa, cerca di capire cosa stia accadendo. Mujgan, con uno sguardo carico di rabbia e gelosia, rivela di essere a conoscenza della paternità di Adnan da parte di Yilmaz e accusa Zuleyha di voler formare una famiglia con lui. Nonostante le suppliche di Zuleyha che negano la verità, Mujgan, fuori di sé, la costringe ad avvicinarsi a un albero, dove una corda penzola da un ramo. Ancora minacciandola con la pistola, le ordina di salire su una roccia vicino alla corda per impiccarsi. Disperata, Zuleyha piange e prega Mujgan di lasciarla in pace, ma i suoi sforzi sono vani. La dottoressa è accecata dalla rabbia e dalla gelosia. Per convincerla, Mujgan spara dei colpi vicino alla testa di Zuleyha. Ma quando questa sale sulla roccia e mette il cappio al collo, nota che Mujgan esita. A questo punto, Zuleyha, con un'ultima scintilla di speranza, toglie il cappio e chiede a Mujgan di consegnarle l'arma, promettendo di non raccontare a nessuno ciò che è appena accaduto. Tuttavia, Mujgan non è pronta a cedere e, durante il tentativo di Zuleyha di strapparle la pistola, si scatena una violenta colluttazione. La lotta è frenetica, le due donne si afferrano e si spingono reciprocamente, mentre la tensione raggiunge l'apice. La pistola, ancora serrata tra le mani di Mujgan, viene involontariamente premuta. Un colpo di pistola squarcia l'aria e un'onda di terrore si diffonde istantaneamente. Zuleyha viene colpita al petto, un dolore acuto e insopportabile si diffonde nel suo corpo. Zuleyha cade a terra, riversa nel terreno umido del bosco. Il sangue macchia il suo abito, mentre il suo sguardo si fa sempre più offuscato. Mujgan, inorridita da ciò che ha appena causato, lascia cadere l'arma a terra. Il rimorso la avvolge, ma è troppo tardi. La sua gelosia e il desiderio di salvaguardare il suo matrimonio l'hanno trascinata in un abisso di violenza. La tensione nell'aria è tangibile, mentre il cuore batte a ritmo accelerato di fronte a questa scena drammatica, scaturita dalla gelosia e dall'ossessione di Mujgan. Ma quale sarà il destino di Zuleyha? E come reagirà Yilmaz quando verrà a conoscenza della verità sulla paternità di Adnan? Mujgan svanisce nel nulla con l'aiuto complice della zia, mentre la terribile notizia dell'accaduto a Zuleyha si diffonde rapidamente per le strade di Adana. Zuleyha viene ritrovata riversa a terra in una pozza di sangue, con una pistola adagiata accanto a lei. Non ci sono dubbi, è stata lei stessa a compiere questo gesto estremo dopo che Demirle ha strappato i figli per l'ennesima volta. Zuleyha viene immediatamente trasportata d'urgenza in ospedale, dove viene sottoposta a un complesso e delicato intervento chirurgico. Nel frattempo, Yilmaz, informato dell'accaduto grazie a Cetin, si precipita sul posto per raggiungerla. Tuttavia, al suo arrivo in ospedale, si trova di fronte a Demir che lo accusa in modo feroce di essere il responsabile dell'estremo gesto compiuto dalla moglie. La tensione raggiunge il culmine, e la discussione si trasforma presto in una violenta rissa. Il personale medico si vede costretto a intervenire per separare i due, mentre Mujgan, impotente, osserva la scena. Yilmaz, devastato dal dolore e dall'amore ancora vivo per Zuleyha, si sente intrappolato in un matrimonio infelice e decide di confidarsi con Fekeli. Rivela al suo padrino che non riesce più a sopportare nemmeno lo sguardo di sua moglie e che desidera chiedere il divorzio al più presto. Tuttavia, Fekeli lo blocca, invitandolo a riflettere sulle conseguenze che qualsiasi azione avrà sulla vita dei tre bambini coinvolti, Adnan, figlio di Yilmaz, e gli altri due figli di Zuleyha. Il futuro è incerto e carico di tensione, e le decisioni prese in questi momenti critici avranno un impatto duraturo sul destino di tutti. Yilmaz, segretamente, visita Zuleyha all'ospedale, osservandola da dietro il vetro che separa le loro vite. Una sera, si nasconde in silenzio e contempla Zuleyha addormentata accanto a Demir. Ma questa volta, finalmente, dopo giorni di angoscia e attesa, assiste al risveglio di Zuleyha dal coma. Questi sono momenti cruciali, in cui speranza, rimpianto e una serie di interrogativi si intrecciano in un intricato gioco di emozioni. Ma il destino riserva ancora molte sorprese e sfide per questi personaggi tormentati. Per oggi le anticipazioni finiscono qui. Grazie per il vostro supporto e alla prossima puntata.